GALATICI AMICI GALATICI AMICI GALATICI AMICI Siamo qui per un'informazione importantissima C'è la terza edizione che avete richiesto del World is the Fest Questa edizione, Doc Nico, dove la faremo? Sarà al Team One di Varese, sede dei precedenti Varese Fest Quando? Il 9 di giugno E con chi lo organizziamo? Con i fichissimi amici dei Baostardi Meno entusiasmo un pochino Tra l'altro abbiamo delle novità importantissime a riguardo le regole per la pittura, vero? Esatto, allora il torno sarà 1500 punti, Guaram e Reggio Sigma Singolo Tutto dipinto Mi raccomando, non sono soltanto sufficienti tre colori di base sul modello Ma siccome l'evento è molto improntato sulla pittura Portate dei modelli molto carini, molto dipinti Perché ci saranno ricchissimi premi in palio Ma soprattutto dipingeteli bene Quindi per dipinti bene intendiamo che si deve vedere Che ci sia una tecnica di pittura sul modello Non bastano le urlate e pennellate del colore base Mi raccomando in bianchini a casa, in bianchini a casa Mi raccomando troverete un sacco di armate molto ben dipinte Con un sacco di giocatori molto guerriti Però quindi dateci sotto perché è una cosa molto importante Ma dove ci si iscrive? Direttamente sul forum Tilea Mi raccomando tra l'altro se avete intenzione di partecipare Se avete idea di parteciparmi Iscrivetevi subito Perché i posti stanno già finendo Porca miseria Quindi Da tutte le france della galassia stanno arrivando per partecipare a questo torneo Quindi non mancate assolutamente per niente al mondo Anzi, per niente al mondo diverso O dalle nasse Perfessi Vi aspettiamo Ciao Ciao